Ciao, sono Gianluca Bocci e oggi intro bello ravvicinato perché prima di andare a vedere più da vicino questa Canon EOS R voglio ragionare un po' insieme a voi perché appunto sono stato la presentazione a Milano della sorellina più piccola ovvero l'RP, ve la rimando qui sopra e i commenti si sono scatenati. Scatenati però sono io il primo a metterlo giustamente perché l'approccio di Canon al mondo mirrorless full frame è piuttosto strano. Innanzitutto parliamo di prezzi che è una cosa di per sé importante. Allora lei è stata lanciata a 2629 euro con l'adattatore in omaggio la sorellina piccola se vogliamo 1569 sempre con l'adattatore per ottiche Canon EF in omaggio quindi questo ha un prezzo molto importante e l'altro un prezzo molto aggressivo. E questa fotocamera però ha un prezzo importante ma ha due grandi punti diciamo deboli. Innanzitutto il singolo slot per schede di memoria quindi un professionista che investe 2600 euro lavorare senza il secondo slot si trova un po' in difficoltà. Poi dice ah per il video ingresso microfono uscita cuffie monitor orientabile in avanti ma il 4k con un crop per farò vedere tra poco come un esempio notevole 1 8x quindi il 4k quasi inutilizzabile almeno di lavorare con tutti i problemi che consegue esclusivamente con grandangolari spinti. Quindi si colloca un po' stranamente. Non solo sia lei sia praticamente l'RP hanno dei sensori vecchiotti. Lei riutilizza praticamente il sensore della 5D Mark IV mentre l'RP riutilizza quello della 6D Mark II. Quindi gli appassionati di Canon e anche giustamente i trattori di Canon hanno un po' storto il naso. Ma il punto è questo. La sensazione, guardatevi una sensazione di Gianluca Bocci ma sembra effettivamente confermato, che questo corpo è stato il corpo con cui Canon ha assaggiato il mercato e poi ha detto facciamo un corpo aggressivo dal punto di vista economico, listino appunto che è l'RP e poi facciamo invece un vero e proprio corpo di destinato a professionisti. Quindi con un comparto video degnitoso e finalmente con questo doppio slot di memoria che i professionisti giustamente vogliono essere sicuri di consegnare il loro lavoro quindi vogliono avere la possibilità di lavorare in duplice copia ogni volta che salvano qualcosa sulla scheda di memoria. Quindi lei è una macchina di passaggio. Verrebbe a dire un po' maglia cattiva non è né carne né pesce perché effettivamente se vogliamo entrare nel mondo mirrorless l'RP basta e avanza. Se vogliamo lavorare nel mondo mirrorless il corpo per lavorare seriamente nel mondo mirrorless deve ancora arrivare. Ma attenzione non è tutti punti negativi il prezzo le mancanze perché comunque con lei è arrivato un motore autofocus con 5655 punti scusate tantissimi che coprono il 100% dell'area verticale inquadrata e l'88% dell'area orizzontale inquadrata quindi davvero incredibile e si spinge fino a meno 6V. Non solo nuova baionetta nuovi 12 contatti nuova progettazione di ottiche esce fuori il mitico 28-70 che purtroppo non sono riuscito a farmi inviare. Ho provato con il 24-105 f4 questo 28-70 f2 che ragazzi è davvero un sogno. Quindi il mondo mirrorless frame di Canon è partito con alti e bassi ma dopo questa lunga parentesi d'apertura penso che sia arrivato il classico momento di andarla a vedere più da vicino. Ecco qui la ripresa penso più importante di questa macchina perché appunto dicevo cosa è buona questa macchina? Una è questa. Quando la fotocamera è spenta effettivamente cosa fanno? Le tendine dell'otturatore meccanico vanno a proteggere il sensore. Se la andiamo a accendere appunto ecco l'otturatore viene esposto, rispengo dopo qualche secondo prende e va a richiudersi. Quindi se noi lavoriamo in un ambiente magari non so vicino a una cascata, in riva al mare dove c'è il vento che solleva, la sabbia e vogliamo fare un cambio ottico senza avere troppe preoccupazioni di andare a sporcare quindi danneggiare le nostre foto questa è la soluzione più semplice e immediata. Una cosa invece che non mi è piaciuta è che c'è il secondo display fighissimo come è realizzato ma il secondo display quando la fotocamera è spenta non ci dice esempio quanti scatti abbiamo ancora a disposizione quindi come messa la scheda memoria o quanta batteria è rimasta. Dobbiamo andare obblitoriamente ad accendere la fotocamera appunto lo vediamo soltanto in questo momento abbiamo le informazioni che possiamo variare andando a premere il tastino dell'illuminazione che passa da uno all'altro quindi sempre ci dice che stiamo la macchina impostata in full hd salvataggio in raw più l e via dicendo. Ma un'altra parentesi e rivediamo il sensore si va a chiudere andiamo a montare il 24 105 per parlare di alcune che sono novità dal punto di vista dell'ergonomia e allarghiamo un po' l'inquadratura perché abbiamo due novità. Allora sull'ottica contiamo le ghiere 1 2 3 c'è una terza che praticamente è assegnabile come funzione. Io per esempio l'ho assegnata a quella che è la compensazione dell'esposizione. Vado a cambiare le informazioni sul display per andare su quello con tutti i dati. Guardate appunto qui la compensazione dell'esposizione vedete vado da più 3 se dovreste vederlo bene sì a meno 3 utilizzando semplicemente la ghiera della terza ghiera sull'ottica e sono fatte molto bene perché questa ha delle lineette verticali molto larghe quella di messa a fuoco delle lineette verticali molto strette questa è zigrinata quindi con la mano il tatto si sente molto bene. Altra grande novità vediamo se riesco a farvelo vedere vado un attimo a rimettere a fuoco è quest'area touch ovviamente personalizzabile. Io l'ho assegnata a quella che è la scelta dei valori ISO quindi posso prendere e andare a variare vedete i valori ISO sia con pressioni singole sia scorrendo verso sinistra e verso destra. Cosa simpatica è che se vado in riproduzione lo stesso posso scorrere tutte le immagini in maniera molto veloce sembrano tutte uguali ma sono gli scatti di prova qualche differenza dovreste averlo utilizzando come se fosse un'area touch ovviamente posso sempre utilizzare le frecce oppure siccome appunto è un touch posso andare a fare in questo modo quindi utilizzando il touch e anche il doppio clic per andare a ingrandire. Mirino ottimo con sensore di prossimità. Questa nuova interfaccia però un'ombra ce l'ha allora quando vogliamo andare a impostare quelle che sono per esempio le riprese video quindi dice ok io prendo e vado dentro il menu direi ok vedo il menu dovrebbe essere a fuoco ricontrolliamo qui e vado a cercare le impostazioni di riprese video ok le trovo no perché se io prendo devo andare praticamente sulle modalità che si sposta in questo modo vado un attimo a ringrandire vedete posso andare in priorità dei tempi in programma e varie altre modalità manuale appunto priorità diaframma come piace a me poi vede sotto c'è quel simbolino che dice vado a ingrandire quello di più no non posso premi il tasto info perché soltanto con il tasto info passiamo modità video ora che siamo modità video finalmente se vado su menu e rimettiamo fuoco compaiono è passato modità video sì quelle che sono appunto le impostazioni di qualità del filmato quindi c'è questa cosa che mi spiazza che se vado a prendere invece la piccola m50 di cui vi rimando la prova qui sopra io se sono in modalità di ripresa la priorità diaframmi quindi fotografia e vado in menu ecco l'impostazione video ce l'ho invece qui i menu variano in basso a quella che è l'impostazione ma c'è quella cosa particolarmente grave che adesso vi faccio vedere allora vado a fare appunto una ripresa video a 24 mm andiamo ancora a ingrandire e cercare di evitare un po il riflesso ok ok guardate qui l'aria inquadrata vedete qui il mio amplificatore per cuffie e qua il pupazzetto di star wars fatto con le lego adesso io vado in menu e vado a impostare come ripresa non nel full hd ma il 4k vado a vedere sbam ecco qui qui vedete questo crop un 8x che è un crop davvero molto molto spinto cioè vedete che l'amplificatore cuffie alla destra e il pupazzetto lego che stava qua sopra a sinistra sono scomparse in inquadratura perché c'è questo davvero fortissimo crop ultima cosa voglio farvi vedere appunto cambio la modalità premo il tasto info e torno a priorità dei reframmi è il discorso appunto del punto di messa a fuoco che tramite touch posso portare vedete fino proprio al bordo superiore a destra non proprio del tutto a destra vado andrò a dire ancora di più ecco questo deve vederlo per darvi l'idea come va ed è molto comodo che in modalità di ripresa quindi quando sono con l'occhio sul mirino io posso utilizzare il touch screen dietro per spostare il punto di messa a fuoco cosa davvero molto comoda e vi confermo che è una macchina che lavora bene ve lo conferiamo meglio guardando risultati allora prima cosa che voglio dire è che utilizzare questa canon eus r oppure utilizzare una canon eus 5d mark 4 non fa poi questa grande differenza se vogliamo anche restare sulla polemica il mirino è davvero molto piacevole molto dettagliata la macchina ha una risposta sia con l'autofocus bilanciamento del bianco esposimetro davvero sempre molto molto precisa inoltre me l'avevate chiesto fin da quando ho fatto la prima presa di contatto a perpignan vi rimando qui il vecchio video come si comporta con l'adattatore qui mi sono fatto prestare il classicissimo cinquantino 1.4 anzi di questo di ringraziare ludovico altro youtuber e mio amico di cui vi rimando il suo canale sempre qui sopra e funziona in maniera stupenda ma una cosa che voglio ricordare a tutti l'adattatore si fornito in dotazione ne parlava in apertura ma un po' una scocciatura perché se noi abbiamo tante ottiche canon f il cambio di ottica diventa un po scomodo quando dobbiamo lavorare immaginiamo di avere appunto un'ottica nuova tipo questo 24 105 e due ottiche vecchie il passaggio da uno all'altro devo staccare questo poi staccare l'ottica da qui posare quindi due il secondo obiettivo prendere il terzo rimetterlo su insomma diventa un po macchinoso ma comunque non si perde assolutamente nulla quello dello spazio prima occupato dallo specchio reflex viene ovviamente utilizzato da questo qui del tiraggio ne ho parlato in dettaglio su quest'altro video qui sopra e il risultato vediamoci subito questo bel ritratto della mia piccola agnese che fa il pagliaccetto con il naso rosso e si vede appunto la tipica resa del cinquantino 1 4 uno sfocato stupendo e una nitidezza ovviamente limitata avete sono nitide le ciglia molto meno nitide quelli che sono l'iride all'interno degli occhi invece come si comporta questo 24 105 lui si comporta molto bene e anche un macro diciamo non spintissimo siamo se sbaglio distanza minima messa a fuoco e 45 centimetri o la margaretina la resta davvero molto bene ovviamente a tutta apertura il contraluce invece lo gestisce un po così così lo vedete praticamente questa immagine lo faccio vedere tra poco invece su un video infatti c'è un evidente flare come vedete in basso a destra però bella la resa d'atmosfera che è riuscito a tirare fuori altra situazione che mette più in evidenza come lavora appunto l'iOS R è questa in interna in cui si apprezza comunque la buona gamma dinamica la luce sugli affreschi all'interno di san nicola fortemente illuminati ma comunque sulla destra la statua del santo praticamente al buio si riesce ad intravederla ultima cosa che voglio farvi vedere e questo praticamente spezzone video c'è da dire un altro dei difetti infatti della canon eOS R è quella di non avere il sensore stabilizzato quindi tutta la stabilizzazione è affidata a quella al livello delle ottiche in questo caso del 24 105 millimetri e insomma l'avete visto va ma non fa miracoli purtroppo questa è una scelta voluta di canon che ha sempre puntato sulla stabilizzazione ottica e le nuove macchine quindi della serie mirrorless full frame se abbiamo l'ottica stabilizzata bene se non abbiamo l'ottica stabilizzata come il comunque magnifico 28 70 f2 insomma bisogna accontentarci insomma ripetiamo per adesso in ambito video siamo un po così così chissà se il modello dopo avrà anche la stabilizzazione a livello di sensore chi lo sa dobbiamo appunto vedere come si va avanti passiamo ai comportamenti alle varie sensibilità allora la sensibilità minima parte dai 50 iso che vediamo qui ma la sensibilità raggiunta in maniera elettronica la vera sensibilità nativa sono i 100 iso poi vediamo i 200 iso poi vediamo i 400 iso e fin qui ovviamente file assolutamente perfetti e ci mancherebbe pure salendo ai 800 e poi i 1600 e poi i 3200 iso entra in gioco una leggera riduzione rumore ma praticamente invisibile se non lavorando al 100 per cento dai 6.400 iso fino ai 12.800 iso si inizia a vedere la perdita del dettaglio più fine ma fin qui sono foto per me perfettamente utilizzabili anche per stampa in grandi dimensioni ma comunque utilizzabili anche i 25.600 e 40.000 iso che sono le sensibilità native volendo possiamo spingerci all'h1 c'è il 51.200 iso e gli h2 che sono impressionanti 102.400 iso che comunque per il web comunque per piccole stampe sono ancora perfettamente utilizzabili e detto tutto questo insomma andiamo a farci un po di pacelline bene iniziamo come sempre da cos'è che mi piace di questa Canon EOS R la prima cosa per me è questo sensore protetto una cosa banalissima ma altrettanto fighissima il vero uovo di colombo quasi tutte le fotocamere hanno l'otturatore ancora meccanico perché serve ad evitare i problemi di rolling shutter quindi perché non sfruttare questo elemento meccanico che impedisce appunto che polvere umidità qualsiasi altro tipo di sporcizia arrivi sul sensore brava Canon seconda cosa mi piace giustamente l'autofocus la messa a fuoco è la parte più importante nei miei corsi base di fotografia sottolineo sempre l'importanza della messa a fuoco e avere 5.655 punti di messa a fuoco che lavorano fino a meno 6v e coprono quasi interamente l'area inquadrata è davvero fantastica ancora brava Canon mi piace molto il fatto di avere nuove ottiche subito disponibile il cinquantino 1.2 fantastico e ancora più fantastico questo 28-70 f2 uno zoom che copre la maggior parte delle focali che potrebbe utilizzare non lo so un cerimonialista durante un matrimonio ma avendo la qualità di una serie di ottiche fisse un tempo un classico era il 35 f2 tu in un 28-70 f2 hai anche il 35 f2 ma hai anche il 28 f2 hai anche il 50 f2 e anche il 70 f2 davvero fantastica brava per la terza volta Canon ultima cosa da dire la qualità immagine c'è attenzione qui il brava Canon non lo dico perché comunque come molti ne ho ridicato la stessa qualità immagine che troveremmo per intenderci su una 5d Mark IV invece cos'è che non mi piace di questa fotocamera oltre alle cose già dette ridette che comunque vi ricordo voglio aggiungere un paio di cose innanzitutto non mi piace che abbiano spezzato i menu e quindi il menu cambia secondo se siamo moviti a foto o moviti a video mi piace che nei menu quando c'entro io voglio configurare tutta la fotocamera dalla z che solito io entro nei menu e poi non li tocco più ho fatto anche prima vi spiace poi che il secondo schermo di stato che per me rimane un po inutile perché in fondo utilizzando il tasto info possiamo vedere riassunte tutte le impostazioni della fotocamera come appunto siamo qui perché metteci il secondo display magari quando la fotocamera è spenta per buttare colpo d'occhio su batteria e scheda di memoria no perché quando spegni la fotocamera tutte le impostazioni vanno via rimane soltanto la modalità visibile secondo me una cosa sbagliata poi ribadiamo a quello che già sappiamo non piace il 4k con crop così spinto non piace il singolo slot di memoria non piace anche l'assenza del sensore stabilizzato che con ottiche fantastiche lo ripeto come il 28 f2 è un po un peccato bene ragazzi spero di aver detto tutto se ho dimenticato qualcosa vi ricordo che i commenti sono a disposizione per tirarmi le orecchie perché in fondo geluca bocci si può sbagliare come tutti e poi se volete la prova dettagliata nero su bianco la troverete sulle pagine di foto news come sempre vi metterò il link qui sotto per andarlo a leggere gratis appena sarà pronto e quindi ciao a tutti e al prossimo video grazie a tutti